Il giornale è fantastico, è stato davvero bello. È ora! Sono usciti tutti! Oh, caspita! Andiamo, Minnie! È ora! Chiamiamo gli altri! Yuhuu! All'ora della foto! Ok. Forza, ragazzi! Tutti in volo! Acqua. Cento anni di storie. Che sia rosa. Oh, che sia blu. Cento anni di magia. Oh, rabbia! Sono bloccato! Secondo te ci saranno anche tutti i cattivi? Non tutti. Celebriamo cento anni di magia a Disney con un nuovo corto originale. Once Upon a Studio. Attento, Pippo! In esclusiva dal 16 ottobre su Disney+. Un'autorità. Grazie a tutti! Grazie.